Sono tornata da un weekend di sport bellissimo, grata della possibilità che mi è stata data da Colle Marathon e dalla mia società, la SD Marotta Mondolfo. Sono stata a Chattanooga dove ho gareggiato su due distanze, la 5 km e la 21, quindi un vero e proprio weekend di sport e sono molto orgogliosa di questo gemellaggio che si sta rafforzando ogni anno di più, proprio grazie alla presenza sia di atleti del territorio che vanno in America e di atleti che ospiteremo in questa occasione. Ho trovato una estrema gentilezza, cortesia, un'energia fortissima nel voler sostenere lo sport e è stato molto bello perché con me avevo mia figlia di 10 anni e abbiamo potuto condividere e farle vedere quanto in realtà lo sport sia importante sia per i valori che per la condivisione con gli altri. La testimonianza di Valeria è sicuramente una testimonianza sportiva ma anche sociale che ci piace tanto. Sottolinea quelli che sono valori anche di gemellaggio, di benessere, di amicizia che in qualche modo veicolano e portano al di là delle nostre possibilità ma anche dei nostri territori sicuramente delle opportunità, opportunità che oggi vengono dimostrate da un atleta che porta a casa un risultato sicuramente, un'esperienza bellissima innanzitutto, ma ha anche, come dire, conseguito un titolo importante perché è arrivata nelle primissime posizioni in una maratona che non era proprio semplice ma sicuramente competitiva ed appassionante.